Oggi allenamento HIIT, 42-44 minuti, focus sui glutei. Cominciamo con Pump Your Hubs, dopo andiamo a fare i glutei e dopo alla fine un circuitino e rock. Cominciamo! Cominciamo! Rock Your Hubs! Vieni! Si comincia! Vi faccio partire con questa frase. Aspettatevi i problemi e mangiateli a colazione. Buon workout a tutti! Il primo, scissor verticale, 20 secondi. Scissor orizzontale, 10. Così vi do il buongiorno. Scissor verticale, 20 secondi. Per fortuna che ormai hai tratto usare le app per i timer benissimo, voglio dire se no? Sarai finito. 5, dai! 3, 2, 1. Scissor orizzontale. Vai, vai, vai! Ancora 3 secondi. 2, 1. Scissor verticale. Ve lo ricordate il Rock Your Hubs? È un minuto di lavoro. Alternando un lavoro da 20 e un lavoro da 10. Sembra che non bruci ma poi comincia a bruciare. Come questo sole. Sotto questo sole. 2, 1. Scissor orizzontale. È il primo. L'abbiamo fatto. Ne abbiamo 10 così. Sono simpatico, eh? Di prima mattina. Pausa! Il prossimo. Crunch al libro. 20 secondi. Crunch 90. 10 secondi. Così. Buongiorno. Buongiorno. Crunch al libro. 20 secondi. Via! Apro e chiudo il libro. Apro e chiudo il libro. Aprilo, aprilo. Domani. Vi aspetta. Uno spacca tutto. Cambio. Crunch 90. Così. Gambo 90 e crunch. Vai, dai, dai. Crunch al libro. Vai! Cambia subito. Qua è tutto di fila, eh? Il Rock Your Hubs è così. 20, 10, 20, 10. Senza pause. Tutto di fila. La pausa ce l'hai alla fine. Hop! Hop! Vai, vai! Cambio. Crunch 90. Dai, dai che dopo hai la pausa. Move! 2, 1. Pausa! Cos'hai adesso? Leg hold. Leg hold. Apro e chiudo. Leg hold vuol dire mantenimento. Apro e chiudo, apro e chiudo così in mantenimento. 3, 2, 1. Vai! Posizione delle gold. Quella in cui leggo il giornale. Spoglio. Guardo le informazioni. Guardo le notizie. Prendo il sole. Faccio il bomber. Dai! Guarda se ci stai un minuto alla fine in questa posizione. perché ti faccio solamente l'inganno mentale di aprire e chiudere, ma stai lì. Dai, apro e chiudo. Apro e chiudo. 10 secondi. Sempre da questa posizione. E fai il tangurello! Mantieni. Ti metti in posizione comoda. Prendi il sole. Così. Giori in posizione. Si è pronta così. Termini. Leg hold. Ancora 8 secondi. Dai! Non ballare che ho messo in bomber sull'addome. 3, 2, 1. Apro e chiudo. Vai! Apro e chiudo. Dai tutta. Apri e chiudi. Apro e chiudo. Apro e chiudo. 2, 1. Pausa. Prossimo. All in. Karate Kid. Alternato a Plank Jack. Ci sei? In plank. Karate Kid. Avanti e indietro. Do la cera. Tolgo la cera. Do la cera. Ormai neanche a fare do la cera, tolgo la cera. Facciamo un fatica, la quanti siamo home. È diventato così. Routine. Cosa fai la mattina? Ti lavo e mi lavo i denti. Faccio colazione. Do la cera. Plank Jack. Dai, apro e chiudo. Plank. Prossimo routine di tutti i giorni. Dai, dai, dai. 2, 1. Karate Kid. Do la cera. Tolgo la cera. Faccio il bomber. Sono bomber. Faccio il bomber. Dai! 10 secondi ancora. Non mollarmi. Non lo fare. Sarebbe una brutta mossa. 3, 2, 1. Plank Jack. Apro più delle gambe da plank. Dai, dai. 4, 3, 2, 1. Ricordi di 15 secondi. Ora ti aspetta. Mezzo barfis, che vuol dire, gambe avanti e indietro, che si alterna al commando. Ve l'ho detto? È semplice oggi, eh. Ve l'ho detto, è più semplice di domani. Mezzo barfis. Ma se oggi è così, domani, cosa ti aspetta? Trema. Trema. Nascondi la testa sotto la sabbia, come gli istrutti, per non farti trovare. Dai. 2, 1. Comando. Comando. Dai. Alterna. Il brazzo. Con cui sali e scendi. Mezzo barfi. Hop. Hop. Dai, dai. Continua. Continua. Hop. Hop. Continua. 5 secondi. Ci siamo. 2, 1. Commando. Alternando le braccia. Hop. 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 2, 1. Pallola. Prossimo. Mountain climbers. Cross, mountain climbers. 20 secondi di mountain climbers, 10 di cross. Che caldo. Sto giù sudando. A bocca. Vai. Mountain climbers. Hop. Dai, dai. Che anche la musica ci dà il ritmo. Hop. 5 secondi. Non molli. 3, 2, 1. Cross, mountain climbers. Hop. Vai, vai. Continua. 2, 1. Mountain climbers. Ragazzi. Rock your arms. È sempre massacrante. Per me, piuttosto di tutti. Per l'addome. Dai, dai, dai. 6 secondi. 5, 3, 2, 1. Cross, mountain climbers. Vai. Che alla fine. È un tabata. Con un po' di recovery. Prossimo. Ronaldo crunch. Rush and twist. No, tu ci nasce da qui. 2, 1. Ronaldo crunch. Se non riesci, fai un crunch gambe 90. Continua, continua però. Se riesci, vai avanti. Voglio vedere la santa ruga. La voglio vedere. Dai. 3, 2, 1. Rush and twist. Da una parte all'altra. Ieri l'abbiamo fatto con la bottiglia. Mettendo così un peso. Oggi libero. Ronaldo crunch. Dai. Dai ragazzi. Rock your arms. Rock your arms. Dai che 6 back è garantito. Sottisbatti. All in for 30. Dai. Rush and twist. Dai, ci siamo quasi eh. Non manco ancora tanto. 2, 1. Recovery. Twist plank. Plank. Jack, twist plank. Quello che vai. Baccino, destra, sinistra, da plank. Si riparte in 3, 2, 1. Vai. Sinistra, destra. Qua rimpiatiamo un secondo. Non che non sia faticoso. Ma un po' meno rispetto agli altri. Mettiamola così. Dai. Che poi è fatto dopo tutti quelli che abbiamo fatto fino adesso. È faticoso anche questo. 2, 1. Plank. Jack. Apro e chiudo. Apro e chiudo le gambe. Dai. 3, 2, 1. Twist. Ballate il nostro twist. E ballo il twist. Dai che smaltiamo l'auto di ieri sera. Che ieri ho bevuto. Infatti lo accuso. Infatti lo accuso. 3, 2, 1. Flank. Jack. Vai. Vai, vai, vai. 3, 2, 1. Recovery. Il prossimo. Line raise delle gambe. Vai su con le gambe. E anche il bacino. E lo alterni con il circle. Ciao, baby. Via. Vado su. È un reverse. Io vado su. Dai, dai. Reverse vado su. Continua. 3 secondi. Non mordi. Ora, circle. Da una parte. Circle dall'altra. Dai. Circle, circle. Vai su. Reverse vado. Vai, ragazzi. Che questo circuito è mortale. Su. È comunque sabato. È la tua sveglia questa. Dopo questo allenamento. Di 40 minuti. Sarai super sveglio. Circle. Dai. Questo è il penultimo, eh. Dove abbiamo l'ultimo. Dai. Hop. Pausa. Ti chiede di farlo l'ultimo. Spider-Man. Mountain climber. È l'ultimo. È tostissimo. Ma poi sai che è finito. È quello il bello. Vai, Spider-Man. Sinistra, destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Dai. La tua forza è la prima del fatto. Che è l'ultimo. È dura, ma è l'ultimo. Dai. Hop. Cinque. Tre. Due. Mountain climber. Vai, vai, vai. Ragazzi, dai. Seguitemi. Segui la mia voce. Prendi la mia carica. Spider-Man. Hop. 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 Dai. Fa un po' il super-eroe. I super-eroi. Nei film, nei fumetti. Non si perdono mai. Fanno una carica bestiale. Dai. Quattro. Tre. Due. Uno. Mountain climber. È l'ultimo. Sono gli ultimi dieci secondi. Sono gli ultimi dieci secondi. Tre. Due. Uno. Come va? Come va? Ti ho voluto un po' testare. Se vuoi. Tu puoi darmi una testata. Uh. Dai ragazzi. Ti ho l'addome. Lo facciamo venire fuori. Guardatelo adesso per avere una carica di quello che hai fatto. Guardi l'addome. Quanto è definito in questo momento. Paralelmente come mai nella vita. Vedi che ho avuto solo un po'. Andate. Benissimo. 50 secondi di frog. Poi vi spiego. Abbiamo sempre della pausa. Per cui avrò tempo di spiegarvi tutti gli esercizi. Ragazzi si partono. Comincia il circuito. In 5 secondi. Il primo è il frog bridge. Via. Andate su e giù. Con i piedi. In disposizione del frog. Rifate 50 secondi. Così. Su e giù. L'intensità come vi ho detto prima. Nei 50 secondi è media. Per cui non andate né troppo piano. Né troppo veloce. Velocità media. Manca 30 secondi. Dai. Continua. Devi sentire il gluteo bello di ferro. Gluteo bello di ferro. Dai. Fallo andare. Ancora 20 secondi. Dai. Dai. Continua. Lo senti sto gluteo? Se non riesci i tuoi piedi così lo puoi fare anche normale. Ancora 10 secondi. Dai. Vai. 3 2 1 Pausa. Il prossimo. Ponte gluteo. Singolo. Ma in questo caso lo facciamo qui con la gamba dritta e la porto su. Facciamo tutto con la sinistra. È un leg range da ponte gluteo. Qua lavorano entrambi. Perché la gamba destra ti tiene su. La gamba sinistra la muovi su giù. 50 secondi di questo. Pusi. Te lo dico. Ne sono passati i 20. Dai. Continua. Se fai fatica puoi mettere la gamba. A 90 gradi. Non fai meno fatica. Se no la tieni su dritta. Ancora 20 secondi. Dai. Dai. Continua. Ho. Ho. Vai su. Vai su. Qua tira a destra. Il sinistro va su. Ma anche il destro lavora. E lavora parecchio. 5. 5. 3. 2. 1. Pausa. Puoi cambiare gamba. Quindi vai. Su con la destra. 2. 1. Vai su. E muori la gamba. Su e giù. Sempre 50 secondi. Lavoro a intensità media. La fatica c'è. Il cuore non sta andando su di brutto. Però la fatica c'è. E lavoriamo sul tempo. Perché qua lavoriamo per un lungo periodo. 50 secondi. Ok? Dai. Dai. La chiappa. Sempre su. Hai 20 secondi ancora. La gamba. Che è già da terra. Lavora. La chiappa qui giù. È durissima. Perché mi sta tenendo. Sta facendo un po' dei glutei. E anche la destra. Lavora tutte e due. In maniera diversa non la lavorano tutte e due. 2. 1. Hai la pausa. Ora cominciamo il lavoro all'altra intensità. 20 secondi. Squat in. Squat out. Vai. Squat in. Squat out. Qua invece la di sella è l'altra intensità. Vai a manetta. 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 Dai. 10 secondi. Vai a manetta. Continua. Qua devi arrivare stanco. È come se fossi in ripetuta. Come se fossi in scatto. Pausa. Lo ripeti. Qua al cuore lo senti che va su. Dai. 2. 1. Ripeti. Anclo. Chiudo. Squat out. Squat in. Squat out. Squat in. Vai, vai. Vai a manetta. 10 secondi. Continua. 5. Dai. Qua al cuore lo su. 2. 1. Pausa. Fuori il granchio. Destra e sinistra. Per 30 secondi. Lavoro in pesita media. Vai. Granchio. Ho. Ho. Vai. La cosa bella. Che è il granchio. Essendo a bassa intensità. Anche la pausa. È di 30 secondi. Dai. Vai, vai, vai. Ancora 10 secondi di granchio. Ho. Ancora 10 secondi di granchio. Ne mancano 3. 2. 1. Ora è la pausa lunga. Così il cuore va giù. Lavoro a bassa intensità. 30 di lavoro. 30 di pausa. Come me ne fai altri? 30 di lavoro. 30 di pausa. E passiamo al circuito dopo. Lavoriamo tutto su intensità. 10 secondi ancora. E poi ripartiamo. Cercate di capire il concetto dell'allenamento. È quello importante. Vai. Granchio. Ho. Ho. È camminata. La posizione di squat. Versa a sinistra. Le chiere si muovono. Addentano. Dai. Vanno a addentare. La brioche che vi magnate. Dai. E' meglio una volta la brioche. Sorridi. Sorridi. 2 secondi. Pausa. 30 secondi. Andiamo col prossimo circuito. Fa mettiamo. Un po' di affondi. Lo spiego questo perché è un po' complesso. Mi fate. Affondo laterale. Da un lato. La gamba è giù. L'altra. Se riuscite. Fate un cerchio. Avanti e indietro. 7 secondi e partiamo. Tutto con lo stesso lato inizialmente. Va bene? 2. 1. Affondo laterale. Cerchio avanti e indietro con l'altra. Torno indietro. Affondo laterale. Cerchio avanti e indietro. E torno indietro. Affondo. Cerchio. Dai. Affondo. Cerchio. Mancano ancora 30 secondi perché siamo tornati a fare l'esercizio di media intensità. Quindi un po' più lungo. Dai, dai. Affondo laterale. Cerchio. 20 secondi. Vedi che l'esercizio da 50 secondi. Se lo facessi per 20 secondi avresti magari pochissima fatica. Non è che ha fatto su 50. Ne mancano 10. Cominciamo a sentire la fatica. Dai. 3. 2. 1. Pausa. Ora ve lo fai dall'altro lato. Affondo laterale dall'altro lato con il cerchio. Vai, vai. 2. 1. Affondo laterale. Quando sono qua. Cerchio. E torno indietro. Affondo laterale. Cerchio avanti. Indietro. E torno indietro. Dai. Faccio il cerchio. Come se avessi un compasso. metti la punta e disegni il cerchio. E' un compasso. 30 secondi ancora, dai. Questo lo chiameremo il compasso dove in cui ho questo esercizio. Ho. Eravate bravi a scuola? Eravate bravi a scuola per un compasso. Io ero bravino a fare disegno, però. Non mi sono mai troppo specializzato in queste cose. E' un disastro quando usavo... Questo si chiamano? La china. Pausa. Affondi anteriori alternati. Anche qua. 50 secondi. Siamo sempre in intensità media. Affondi anteriori alternati. Vai. Sinistra. Destra. Se vuoi ti metti alcun compasso. Sinistra. Destra. Oppure fai solamente sinistra e destra. Come vuoi. In base a quanto ne hai. Io metto un compasso in me. Scegli te. E' sabato. Sono più buono. Sapendo quello ti aspetterà domenica. 5 secondi. 3. 2. 1. Negli altri 20. Sto scherzando. Il burlone. Dai. Che con l'intensità media si fa. Lo senti. Ma non hai il cuore che va a manetta. Il prossimo è quello di intensità alta. Per cui è qua che sentirai fatica. Il prossimo è il pulse l'angelo. Lo ricordo. Pulsato e cambio. A run. Hai 20 secondi di lavoro qua. Intensità alta. Per cui vai a canna. Pulso. E cambio. Pulso e cambio. Dai. L'intensità è alta. Ma va la manetta. Ricordate la pulsazione. Ricordatela. La vuoi di più. 5 secondi. Dai. Che questo si sente per 20 secondi. 1. 10 secondi di pausa. Quello che fai. Come va? Senti che il cuore. L'intensità è alta. Va su. 2. 1. Di nuovo. Hop. Hop. Sinistra. Sinistra è questa. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Dai. Dai. Non muovo. Anche se parcovolo. Non muovo. Anche se parcovolo. Pausa. Abductor. Wall sit. Di 30 secondi. E' quello che faccio così. Apro e chiudo. Da wall sit. Vai. 30 secondi questo. Questa è quella in intensità bassa. Più chiaro per la pausa che fai. Ok? Quindi apri e chiudi. Da wall sit. Vai. 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 Continua. Manca solo. 10 secondi. Un po' più c'è la coscia. Anche la piappa. Dai. Stai indietro col penno. Tu ti lavora il brutto. Pausa di 30 secondi. Il caldo che fa. Quanto in intensità è bassa? Perché è recupero lungo. Mi ricorda tanto i miei allenamenti di corsa. in cui proprio avevo un'alternanza di lavoro. Su e giù col cuore. Su e giù col cuore. Via. 30 secondi. Di ablutto a wall sit. Il peso. Vengo indietro. Lavoravo spesso su questo tipo di cosa. Ma andare su e giù col cuore. E' fondamentale. Uno sforzo. Prolungato, medio. Lungo. Non sa, mi faceva fare. Di, non so, 5 chilometri. Ancora? 10 secondi. 5 chilometri di riscaldamento. Una velocità di un certo tipo. O 2 chilometri. O cui si ripeteva. Con il metodo delle ripetute. Pausa 30 secondi. Cercate sempre di alternare. Ora! Si torna in 50 secondi. A fondo, posteriore incrociato. Tutto con una gamba. Ve lo ricordate, no? Solo così. Andate indietro incrociato. 10 secondi ancora di paura. Meno un goccio. Poi partiamo. Adesso diamo i 50 secondi. Siamo con l'intensità media. 3 secondi. 2. Via! Andate giù bene. Tutto con lo stesso lato. Il primo. Perché come lo faccio fare? Una volta. Con la destra. 50 secondi. E una volta con la sinistra. Stessa cosa. Stesso concetto. Fatto per 50 secondi. Vedrete che se lo fate bene. Dovete sentirlo. Perché si sente. Però dovete andare giù bene. Con la gamba dietro. Quattro facendo toccare il ginocchio a terra. Manca a 20 secondi. La gamba. Comincia a farsi sentire. Dai! Che oggi era il richiamino. Per gambe glutei. Ragazzi le sto potenziando un casino. Sono felicissimo. Ero debolissimo di gambe glutei. Dai! 2. 1. 10 secondi di pausa. A fondo posteriore crociato sinistro. Sto sudando tutto il vino che ho bevuto ieri sera. Dai! A fondo posteriore crociato sinistro. Vado giù bene anche qua. Vai vai. Vai giù. Controlla bene il movimento. Non devi andare a calma. Questa è intensità media. Ma l'intensità media è dovuto al fatto che lo fai tra 50 secondi. Controllati. Vai! Ancora 30 secondi. Ho! Ho! Dai! 2. 1. 20 secondi. E poi è rinchito. Con questo esercizio. Lo fai un sumo squat pulsato. Dai! 10. 5 secondi. Dai! Ora 5. 3. 2. 1. 10 secondi di paura. Sumo squat pulsato. Io non è che sto grondando. Sumo squat pulsato. Gambe bene aperte. Vado giù. Pulso e salvo. Vado giù. Faccio un movimentino. Nel bacino. Hop! Muovi a tempo il bacino. Sono capitano uncino. Dai! Hop! Un passo indietro. Odeggiando. Dai, dai! Ancora 30 secondi. di sumo squat pulsato. Ricordi che le gambe sono ben aperte. I piedi. Guarda la corata a 5 gradi. Hop! Fallo bene. Se vai giù lo senti. Se non lo senti. Sei un cyborg. Dai! Chiaro. Non lo devi sentire da morire. Mi sentisca la buona gluteo, eh? Vai! Dopo i 10 secondi di paura. E abbiamo quella d'altra intensità. Altra intensità. L'abbiamo già fatto. Jump avanti. E jump indietro. Se hai paura a fare jump indietro. Ti giri e fai solo jump. Vai! Jump avanti. Jump indietro. Jump avanti. Jump indietro. Hop! E non riesci e ti giri, eh? Non mi interessa. Ti giri e fai doppio jump. Hop! 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 Dai! Pausa! Ti senti ragazzoni? 3! 2! Si riparte, dai! Via! Jump avanti. Jump indietro. Avanti. Indietro. Hop! Hop! Devi saltare. Devi rimanare un pochino sulle gambe. E atterrare in maniera dolce, eh? 2! 1! Pausa! Ora il rainbow. Te lo ricordi il rainbow? Andato di. Qua dupedì. Crei un rainbow. Un arcobaleno. Vai! Tutto al lato destro. 30 secondi. Solo al lato destro prima. disegnami questo arcobaleno. Dai! Disegnalo bene. Fai un bel cerchiottino. Ci sei, ci sei. Il gluteo. Un po' brucia per forte. Ancora 10 secondi. Dai! Continua. E sarai più fortunato. Dai! Pausa. 30 secondi. Questa è quella intensità bassa. In cui la recupero più lungo. di 30 bellissimi secondi. Quanto è bello la recupero di 30 secondi. Uh! Dai! Ancora 10. Per cui ricordo bene. Ora mi fai il rainbow sinistro. Chi sei? Via! Fai un bel rainbow. Ho! Ho! Il gluteo. È di marmo. Dai! 8 secondi. Ma ne ho 30. Per cui non sono un 18. Dai! 10 secondi. Continua a fare questo rainbow. 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 Ho! Ho! Dai! 3! 2! 1! Pausa. 30 secondi. Dopodiamo l'ultimo. Circuito. di questo concetto. Com'è l'ultimo circuito? Fate 50 secondi di questo esercizio qua. A questa posizione andate dietro ok? E portate il ginocchio a toccare il gomito. Vai! 50 secondi così. Estendo gomito. Estendo gomito. Ho! 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 Estendo il gomito. Estendo il gomito. Poi estendi ben su anche eh. Estendo e vai a toccare il gomito. Ho! Estendo il gomito. Continua. Manca solo 20 secondi. Estendo il gomito. Dai! Estendo il gomito. Ho! Estendo su il gomito. e dai eh! Di marmo! Dai! 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 Non mi morli adesso eh! 3! 2! 1! 10 secondi di di paura che hanno la gamba. Ti fai un estendo il gomito lato opposto. Ragazzi sto aggrondando. Vai! Estendo il gomito. Estendo il gomito. Dai! Ho! Scusate se faccio dall'altro all'altro ma vado al divano. Se lo faccio poi dopo vado con il divano. Estendo su vado a toccare il gomito. Estendo su vado a toccare il gomito. Ho! L'importante è che la gamba quando vado a toccare il gomito sia come se fosse in Spider-Man quindi verso l'esterno. Non andate dritti a mountain climbers ma Spider-Man estendo gomito. Ho! Quindi estendo Spider-Man estendo Spider-Man dai! Next step ce la farmo in plank quindi non con la gamba appoggiata. Ci arriveremo. Dai! Tre secondi! Dai! Ho! Ora pulso squat più jump più squat ovvero squat più salto vado su in jump. Cinquanta secondi guapaticate un po'. Pulso jump pulso jump dai! Qua mi vado a vedere sudare con cinquanta secondi così questo lo chiuserete un po'. Pulsate e jumpate pulsate e jumpate e salta 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 e salta si può a raro dai! Pulso e salto quindi mi do la carica e salto mi do la carica e salto dai! Carica nella molla vai su carica molla e vai! Carica molla esplodi dai! Dieci secondi ci sei quasi cinque dai 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 due uno dieci secondi di pausa ora mi fai un jump squat a 90 gradi a intensità alta per cui vai a canna due uno vai! fai 90 gradi così se vuoi vai anche di là basta che mi fai un saltino a 90 gradi con 20 secondi lo accusi lo so un dopo l'altro ma me lo fai dai due uno pausa lo ripeti di nuovo come stai? brucia un po' è quello che voglio 90 gradi dai se brucia vuol dire che va bene se non brucia allora stai facendo male dai dai fanno bruciare cinque secondi tre due uno pausa porai affondo posteriore kick ovvero calcio tutto con una gamba affondo posteriore calcio affondo posteriore calcio con il ginocchia dai vai vai che le frulliamo bene ste gambe continua cinque cinque tre dai ultimi 10 secondi ma tu hai 30 di riposo per cui ti riprendi tre due pausa 30 secondi come va? stai corrlando ste gambe? oggi è il richiamino ora facciamo tutto con l'altra gamba come sta? dai 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 quanti gin tonica hai venuto ieri sera? vodka redwood? vodka lemon? dai 10 secondi si riparte tre affondo posteriore kick via affondo posteriore kick hop hop calcio 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 quante volte hai desiderato calciarmi tirarmi un calcio ti do qua la tua opportunità per uccidermi dai hop 10 secondi e il circuito hit è finito dai tre due uno bravo non un applauso è un circuito quasi solo di esercizi cardio uno dietro l'altro per sudare un po' si chiama circuito brucia alcol post sbornia dai ve lo spiego da un 40-20 quattro volte c'è quattro esercizi da quattro ci sono 4-40 scusate questi 4-40 ci saranno due esercizi faccio vedere solo il primo il primo è skip braccia alte 4 volte da fare e 4 back kick cambiate le gambe prima davanti e subito dietro 4 4 e 4 cominciamo con quelli si parte pochi pausi dobbiamo andiamo a tenere sul cuore 4 skip 3 2 1 vai 1 3 2 3 4 4 indietro 2 3 4 gli skip sono sempre 4 davanti e 4 dietro dai 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 che qua bruciamo qua bruciamo questo è molto aerobico questo circuito dai dai fai sempre avanti e indietro dai ancora 10 secondi ci sei dopo i 20 secondi di pausa 3 2 1 pausa il prossimo 2 skater jump hop skater e 2 poliziotti arrestati di nuovo per domani ti metti in galera in misura preventiva per quello che ti farò fare domani 2 skater jump hop hop 2 poliziotti hop 2 skater jump 1 2 2 poliziotti hop qua devi mandarmi sul cuore noi vogliamo il cuore su per cui puoi andare veloce dai dai 2 skater vai al tuo ritmo eh su questo puoi andare al tuo ritmo prima negli skip davanti di assieme hop ma lo ricordi sempre 2 skater jump 2 poliziotti arrestami arrestami pausa il prossimo 4 land jump ok 4 cross fai un balletto o una carena 4 land via 1 2 3 4 4 4 macarena 4 land 3 4 macarena macarena hop land dai dai la macarena ci sei dai dai hop 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 macarena continua hop 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 dai dai vai a canna qua eh devi mandare sul cuore devi bruciare pausa l'ultimo 4 4 4 dove è jumping jack 2 squat in squat out dai 4 jumping jack 3 4 squat in squat out squat out jumping jack dai 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 squat in squat out hop vai a manetta che bel buongiorno che ci siamo dati oggi eh vai 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 vedrai dopo quando sei carico per affrontare la giornata non puoi esserti massacrato così dai 3 4 hop 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 4 jumping jack 2 squat in pausa ricominciamo 4 skip braccialate c'è 4 skip 4 buttiche dai 10 6 5 sei vivo 5 sei vivo dai vai 1 2 3 4 3 4 vai 3 4 vai e ho qua vai a manetta eh voglio che accendere il ritmo devi andare ti dare il gas devi dare la tutta siamo ormai alla fine il traguardo è molto vicino sei arrivato fin qua perché sei un bomber sei messo alla sveglia sei messo alla sveglia per farlo è giusto è giusto onorare la sveglia per darmi in fondo dai pausa 2 2 skater jump 2 poliziotti come va stai bruciando stai buttando fuori tutto butti fuori dai 2 skater jump via 1 2 2 2 poliziotti dai il ritmo lo voglio elevato è l'ultimo giro ne hai già fatto uno questo è il secondo vuoi dire che sei veramente molto vicino all'applauso dai l'applauso è dietro all'angolo hop dai il poliziotto dai di skater jump hop dai eh mancano 8 secondi il bomber non molla mai dai ancora ne fai l'altro pausa 4 lung jump 4 incroci i gambe macarena la macarena dai ragazzi che è fatica stavattina uh è uno sfogo 4 lung dai 1 2 3 4 macarena 2 3 4 4 lanci 3 4 e lanci hop hop il cuore è sempre su il cuore non molla mai vai vai hop sei carichissimo questo è il penultimo è solo 10 secondi vuol dire che ormai vai a fare la doccia 5 3 dai dai a minuti di 4 pausa cosa abbiamo adesso? 4 jumping jack 2 squat in squat out dai è l'ultimo è stato buono è stato buono oggi non ti ho messo i barbis facci caldo neanche un barbis c'è un motivo eh vai 4 jumping jack squat in squat out jumping jack 3 4 squat in squat out jump jack dai pensaci perché l'ho messo i barbis? per ieri? no per domani? eh eh potrebbe dai hop hop vai 3 4 manca 5 secondi e poi è finito per oggi dai buon risveglio a tutti vi lascio così con una frase che vi fa capire perché stiamo dedicando del tempo allo sport a noi stessi in questo periodo perché ci stai facendo bene investi sempre in te stesso è l'investimento che paga i più alti interessi ragazzoni buon sabato vado a fare la doccia oggi vi saluto così